Buonasera a tutti amati dal Signore. Quanti sono amati da Dio? Quanti si sentono amati da Dio? Ma l'importante è essere consapevoli di essere amati da Dio. Perché se ci sentiamo solamente amati da Dio i nostri sentimenti sono come l'iperbole, salgono e scendono. Ci sono momenti in cui ci sentiamo amati, ci sono momenti in cui non ci sentiamo amati. Però in quei momenti in cui non ci sentiamo amati, dobbiamo credere nel Suo amore. Perché il Suo amore non cambia verso di noi. Dio ci ama, noi siamo amati. Dice che siamo il Suo tesoro particolare. Siamo preziosi. Amen? Alleluia. Gloria a Dio. Abbiamo lasciato una religione fatta di opere morte per abbracciare una relazione con il Padre. Una religione che cerca ancora di raggiungere Dio con le proprie opere, mentre Dio nella Sua grazia, nel Suo immenso e profondo amore, è sceso, si è fatto uomo e si è sostituito a noi. Ad ognuno di noi, personalmente. Dio è morto per ognuno di noi. Non ha guardato una folla. È venuto per ognuno di noi. Ti chiamo per nome, dice in Isaia. Ci chiama per nome. Sa tutti i nostri nomi. Sa anche quanto capelli ha ognuno di voi. Chi ne ha di più, io ne ho di meno. C'è chi non ne ha. Ma sa le radici dei capelli che ci sono in testa. Siamo pronti per la parola? Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Atti. Capitolo 10. Iniziamo dal verso 37, anche se poi mi soffermo su un versetto che voglio meditare insieme a voi. Ci siete tutti? Atti? Noi siamo la continuazione degli atti, lo sapete, vero? Amen. Qua non manca l'insegnamento con il pastore Filippo, con il pastore Davide, con Fiorella. E anche voi stessi che meditate la parola, studiate la parola, frequentate la scuola biblica. Quindi più approfondiamo la parola del Signore, più scaviamo nella parola del Signore e più troviamo pietre preziose. Più scaviamo nella parola di Dio e più conosciamo sempre di più il suo immensa amore per noi. La dimostrazione dell'amore di Dio è stata alla croce. Quale più grande dimostrazione dell'amore? Morire alla croce. La tortura indicibile. Una tortura che niente e nessuno voleva mai passare. Infatti i romani si seccavano pure di andare a portare i prigionieri alla croce perché li fusticavano così tanto perché speravano che morissero. Ma Dio nella sua immensa grazia ha permesso e Gesù Cristo di non solo non avere nessun osso rotto, ma arrivare alla croce e morire sulla croce. Per ognuno di noi. Meraviglioso sacrificio di Cristo. Amen. Leggiamo dal verso 37. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo, che Giovanni predicò. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene. Mi soffermo un attimo. Cosa ha fatto Gesù? È andato attorno? Ripetetelo di nuovo facendo del? Voi sapete che c'è, ci sono persone che ancora credono che Dio permetta il male per insegnarci oppure che manda il male per insegnarci. Che c'è scritto nella scrittura? Che Gesù andava attorno per fare del bene. Io non lo so dove trovano queste favole sinceramente. Alleluia. Facendo del bene e sanando. Che significa sanare? Guarire. Dio vuole la nostra salute. Tutti coloro che erano oppressi dal diavolo perché Dio era con lui. E anche con noi. Amen. Le Maluel. E noi siamo testimoni di tutte le cose che Egli ha fatto nel paese dei Giudei in Gerusalemme e come essi lo uccisero appendendola a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che si manifestasse. Non già a tutto il popolo ma ai testimoni preordinati da Dio a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo che è risuscitato dai morti. Ora Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A Lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. E poi continua la storia che Pietro aveva parlato a casa di Cornelio che poi discesse lo Spirito Santo su di loro. Mi soffermo qua. A Lui rendono testimonianza tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Quanti si sentono perdonati? E domani? Vi sentirete perdonati? Anche se avete sbagliato? Gloria a Dio. Sono contento. Alleluia. Vi ricordate l'episodio della donna che si mise ai piedi di Gesù? E c'era Simone che la giudicava eppure Simone aveva accolto Gesù in modo freddo, distaccato, come purtroppo la religiosità. e quella donna dice Gesù prendiamolo, prendiamolo perché a me piace leggere la parola del Signore Luca 7 Alleluia Luca 7 747 però leggiamo da dal 44 così diciamo che capiamo un pochino poi volgendosi verso la donna disse a Simone vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo tu non mi hai dato neppure un bacio ma lei da quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi tu non mi hai unto il capo di olio ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati perché ha molto amato ma colui al quale poco è perdonato poco ama però qua hanno messo un avverbio perché? perché è un avverbio però interrogativo che non c'entra niente con il contesto della scrittura è giusto dire per questo motivo lei ha molto amato perché le sono stati perdonati i molti peccati più abbiamo la consapevolezza del perdono di Dio nella nostra vita più siamo consapevoli del suo amore e più noi amiamo Dio il perdono dei peccati se voi guardate la scrittura ora prenderemo qualche altro passo non fa altro che liberare la persona quando noi andiamo a parlare di Gesù alle persone dobbiamo parlare non dei loro peccati ma del sacrificio meraviglioso oggi ci si sta sempre e si mette in enfasi molto più sul peccato che sul sacrificio di Gesù Cristo il sacrificio di Gesù Cristo è molto di gran lunga superiore al peccato stesso quando noi eravamo morti nei falli e nei peccati Gesù è morto per noi Gesù ci ha amati il peccato non è un impedimento per Dio il peccato è un impedimento è una distruzione per noi alleluia dice in Romani 1.16 io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede dice San Paolo nella lettera ai Romani io non mi vergogno dell'Evangelo che significa che si vergognava a manifestare o a predicare l'Evangelo di Cristo assolutamente l'Evangelo di Cristo è la buona novella è così bella che chi l'ascolta non ci crede oggi un cristianesimo fatto all'acqua di rose dove si predica solamente il giudizio nei confronti degli altri ma in seconda Corinzi dice che Dio non ha imputato agli uomini i loro peccati a tutti gli uomini non alla Chiesa a tutti gli uomini al mondo intero non ha imputato che significa non imputare? non mettere in conto dice non ha messo in conto è un termine matematico non mettere in conto non mettere peso perché? perché tutto il peccato se l'è caricato Gesù Cristo su di lui Gesù ha pagato per ogni nostro peccato per tutti i peccati ci ha lavati con il suo sangue e ora siamo lavati e perdonati e amati siamo grandemente benedetti altamente favoriti e profondamente amati alleluia io non mi vergogno dell'Evangelo lui stava parlando ai religiosi di quel tempo dice io non mi vergogno della buona notizia della grazia di Dio mentre là si predicava la legge si continuava a combattere contro il nuovo messaggio quel messaggio di vita che Gesù Cristo portava avanti e che aveva scelto San Paolo per sviluppare perché nei Vangeli noi vediamo la vita di Cristo ma Cristo è stato solamente tre anni e mezzo e non ha potuto spiegare il tutto ma Dio poi ha usato San Paolo ha usato San Paolo per spiegare per sviluppare tutto quello che Cristo ha fatto ecco perché Satana scaraventato contro di lui e cercava di ammutolirlo perché nessuno aveva compreso oggi noi dobbiamo predicare l'Evangelo della grazia il perdono dei peccati dobbiamo dire alle persone che i loro peccati sono stati perdonati e questo libera le persone questo fa avvicinare le persone come ha avvicinato noi e dice ma io sono mi sento indegno di venire al Signore no no Dio ti ha perdonato tutti i peccati tutti i peccati e ora vedremo qual è il significato dei peccati e del peccato dice che Gesù predicava il regno di Dio il regno di Dio si è avvicinato a voi e molti non capivano dicevano il regno di Dio si è avvicinato a voi oggi il regno di Dio dice Gesù è dentro di noi prima c'era Gesù che camminava insieme a loro e allora il regno di Dio si è avvicinato perché dove c'è un re c'è il suo regno o no? e allora c'era Gesù che camminava nelle strade porverose di Israele e diceva il regno di Dio si è avvicinato a voi Gesù Cristo è il regno di Dio che si è avvicinato al popolo ma allora aspettavano un condottiero aspettavano chissà che non si aspettavano un umile falegname ancora aspettano però vediamo come Israele continua nei principi di Dio e sono tra il popolo più benedetto che c'è sulla terra purché ancora non hanno avuto pienamente la rivelazione del Messia ancora aspettano il Messia gli israeliti ma noi dobbiamo benedire dobbiamo benedire la nostra nazione la nostra città dobbiamo benedire Israele dobbiamo benedire Gerusalemme perché dice che noi se benediciamo riceviamo la benedizione noi abbiamo ricevuto la benedizione e questa benedizione la dobbiamo portare agli altri noi dobbiamo benedire noi siamo i canali del Signore per benedire gli altri non per puntare il dito se ci puntano il dito ricordategli che ce ne sono altri tre che spuntano contro loro Dio non ha puntato il dito vi ricordate quando erano nel territorio samaritano che li scacciarono e i discepoli che ancora non avevano compreso dice Signore fai vuoi che facciamo scendere fuoco dal cielo? e Gesù dice ma di quale spirito siete animati? io sono venuto a salvare non a giudicare non a distruggere c'è un altro che fa quest'opera ma io sono venuto a portare vita e vita in abbondanza è portato la vita eterna se è una vita eterna come volete quantificare questa vita eterna? una vita limitata è una vita senza limiti che abbiamo dentro di noi e che giorno dopo giorno assaporiamo questa grazia meravigliosa che ora è dentro di noi questo Vengelo che è dentro di noi questo Regno di Dio che è dentro di noi e noi dobbiamo manifestare il Re dei Re noi siamo dei Re siamo dei sacerdoti siete delle regine e dobbiamo manifestare il Regno di Dio dobbiamo portare il Regno di Dio dove andiamo noi dobbiamo portare la luce dobbiamo portare i principi del Regno però se il Regno di Dio ha dei privilegi per noi ha delle benedizioni ma ha anche delle responsabilità e noi siamo responsabili in questo e allora perché dobbiamo vivere santamente? perché dobbiamo in un certo modo distinguerci in questo mondo di tenebre? dice se Dio ci ha perdonati molti dicono se Dio ci ha perdonati che ci fa? infatti quando si predica la grazia i religiosi dicono certo voi predicate la grazia perché così fate quello che volete assolutamente assolutamente l'amore di Dio anche nel giardino dell'Eden perché Dio ha messo l'uomo nel giardino dell'Eden e gli ha detto ci sono tutti gli alberi e c'è anche l'albero della conoscenza del bene e del male ha lasciato libero se l'amore non lascia libero non è amore è una condizione e cantavamo che l'amore di Dio non ha condizioni l'amore di Dio se due persone stanno insieme e quella persona non vuole e io ti devo forzare ad amarmi quello non è più amore è una condizione è una forzatura Dio ha lasciato libero l'uomo e gli ha detto scegli la vita scegli il bene vi ricordate quando Mosè dice questi sono quello che Dio ha detto scegliete la vita scegliete il bene perché? perché sa che il male distrugge la nostra vita nello spirito non possiamo più essere toccati perché ora siamo perfetti perché siamo un tutt'uno ora siamo non si può più capire lo spirito santo è il nostro spirito è un tutt'uno e siamo perfetti lo dice in ebrei agli spiriti eterni agli spiriti dei giusti e noi siamo giusti davanti a Dio quanto sono giusti? quanto sono santi? non tutti hanno alzato la mano qualcuno si sente poco santo stasera? San Paolo disse ai corinti a corinti alla chiesa di corinto ai santi che sono in corinto io dico ai santi che sono a messina e non credo che ci sia la stessa condizione che c'era a corinto Dio non guarda noi guarda Gesù in noi guarda Gesù in noi non guarda il nostro fare ma guarda Gesù Cristo in noi e io se sono così amato come non posso fare quello che Dio vuole che io faccia per il mio bene per il tuo bene prima cosa perché dobbiamo vivere santamente andiamo in Romani mi faccio un pochino correre con la scrittura stasera Alleluia Romani 6 al verso 1 dice che diremo dunque rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia niente affatto niente affatto noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso quando Gesù è venuto nella nostra vita quando Gesù è morto sulla croce e non solo ha crocifisso se stesso per noi e per i nostri peccati ma ha crocifisso anche noi la nostra vecchia natura il nostro vecchio uomo è stato crocifisso adesso non abbiamo più quella natura di peccato abbiamo una natura di giustizia una natura di giustizia che cosa dobbiamo cambiare invece che non non fa Dio la nostra mente dobbiamo rinnovare la nostra mente perché ancora facciamo delle cose che sono non consoni rispetto alla nostra natura di giustizia adesso perché dobbiamo rinnovare la nostra mente perché la nostra mente era abituata a quella condizione a quella natura di peccato come rinnoviamo la nostra mente i nostri pensieri sono formati da immagini i nostri pensieri in base a quello che pensiamo non facciamo altro che far scaturire dei sentimenti i sentimenti fanno scaturire un comportamento e il comportamento degli azioni ora dice in in Efesini Efesini 2 egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principio della potestà dell'aria dello spirito che era al presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri in Colossesi 1 21 c'è scritto voi stessi che un tempo eravate stranei e nemici nella mente con le vostre opere velvagce avete visto dove siamo dove eravamo nemici e ogni qual volta noi non permettiamo a quello che Dio ha messo dentro di noi dentro il nostro spirito c'è Dio dentro il nostro spirito c'è il padre il figlio e lo spirito santo ci sono le benedizioni c'è il regno di Dio c'è l'avangelo di Cristo c'è tutto dentro di noi la mente si deve adeguare a quello che c'è e fin quando non si adegua e ancora continua a fare delle cose sbagliate noi non faremo altro che servire quello che è già stato sconfitto la nostra carne vi ricordate quando Dio maledisse il serpente il serpente faceva parte del bestiame quindi è un bestiame una mucca un toro o qualcosa aveva delle gambe ma lo maledisse e gli disse tu striscerai nella polvere della terra noi da dove proveniamo proveniamo dalla terra ogni qual volta noi ci muoviamo nella carne a causa dei nostri pensieri negativi non facciamo altro che diventare preda del nemico io invece voglio vivere con i pensieri rivolte al cielo perché sono seduto nel cielo tu sei seduto nel cielo e i nostri pensieri come si diceva durante l'adorazione i pensieri di Dio sono più alti dei nostri pensieri e allora io mi voglio allineare con quei pensieri voglio essere in accordo in sinfonia con i pensieri di Dio per il mio bene Dio vuole solo il nostro bene e allora un motivo per vivere santamente è perché adesso abbiamo una nuova natura una natura di giustizia la tua coscienza deve essere ed è una coscienza di giustizia non più una coscienza di peccato non avere più non dobbiamo avere più la consapevolezza del peccato pur essendo che ancora torna a noi pur essendo che ancora sbagliamo sbagliamo anche con i pensieri stessi quando Dio quando Gesù Cristo disse la legge dice che se tu ti cori con una donna allora meriti la lapidazione ma io ti dico quella era la legge cioè nell'atto fisico già la legge si muoveva per lapidare ma io ti dico che già quando tu hai pensato desiderato una donna già sei nel peccato quindi la grazia non autorizza a peccare la grazia ci insegna a rinunciare al peccato amén la grazia è la benedizione la grazia ma anche una responsabilità sapete la religione ha creato delle maschere ha creato ipocriti ipocritas significa mettere una maschera la grazia invece ti lascia libero di essere quello che veramente io devo essere libero come sono qua devo essere anche nella società non devo mascherarmi la religiosità ci ha mascherati ci aveva mascherati noi siamo usciti dalla religiosità noi ora siamo nella grazia di Dio ma la grazia di Dio non fa altro che giorno dopo giorno trasformare la nostra vita e se noi sempre più attingiamo alla parola di Dio la parola di Dio trasforma la nostra vita perché i nostri pensieri saranno impregnati inzuppati come la mattina quando mettiamo un biscottino non tolatti chi è che mangia il latte o nel caffè dobbiamo essere inzuppati della parola del Signore inzuppati e più ci inzuppiamo della parola di Dio e più la nostra vita verrà trasformata e cresceremo alla perfetta statura di Cristo Gesù questo è un motivo perché dobbiamo camminare in modo santo un altro motivo eliminiamo il primo appunto 6.15 che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia così non sia non sapevete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidigli siete servi di colui al quale avete ubbidito o del peccato per la morte o dell'ubbidienza per la giustizia il peccato dà il diritto al nemico di attaccarci il peccato distrugge noi nel momento in cui sbagliamo abbiamo e diamo un diritto legale al nemico di attaccarci vi ricordate quando mi ricordo se Giacomo o Pietro quando dice il leone il leone satana il diavolo va attorno come un leone ruggente noi non dobbiamo mai essere in quel luogo chiamato attorno ma dobbiamo essere come dice il salmo 91 sotto le sue ali sotto le sue braccia anche perché non siamo polli vi ricordate che non siamo polli siamo aquile dobbiamo stare sotto l'ala della nostra aquila reale che è il Signore fin quando stiamo sotto la sua protezione satana fa un baffo non voglio essere presuntuoso assolutamente ma fin quando è come un bambino che sta sempre attaccato ai propri genitori se scappa esce fuori dalla protezione dei genitori e si espone al male ma fin quando sta protetto il nemico non può fare nulla ora in Efesini 4 se non sbaglio 27 dice non date luogo al diavolo che significa non date luogo al diavolo significa che satana non ha potere su di noi ci ricordiamo che Gesù Cristo ha spezzato la potenza del nemico e ha spuzzato la potenza del peccato chi pecca e perché lo vuole fare dice la grazia spinge a peccare no no non è la grazia che spinge a peccare le persone peccano peccano perché scelgono di peccare che significa che non sbagliamo assolutamente però più noi ci conformiamo alla parola di Dio più noi stiamo inzuppati alla presenza di Dio e più il peccato non non sarà più nella nostra vita vivremo una vita e non ci dovremo sforzare dice in ebrei quello che mi passa nella mente ebrei 4 dice 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 ebrei 4 dove è ebrei 4 se ne frega è scappato ebrei 4 ebrei 4 parla del riposo e dice allora ecco qua poiché ebrei 4 per chi volesse leggerlo dunque ebrei 4 versetto 6 poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi mentre quelli a cui prima fu annunziata la buona noella non vi entrarono a morivo della loro incredulità nel verso 5 quello prima dice non entreranno nel mio riposo la fede sapete che è riposo fede è riposare non è uno sforzo perché ora come voi siete seduti l'ho detto anche altre volte noi siamo seduti nei luoghi celesti quindi la fede è un riposo ma nel momento in cui noi ci affatichiamo non facciamo altro che entrare come coloro che ci precedettero nella disubbidienza perché nel fare troppe cose che sono fuori dalla volontà di Dio noi non facciamo altro che cadere nel peccato perché la disubbidienza è un peccato amén ecco un motivo un altro motivo per vivere in modo santo e non dare luogo al diavolo perché non devo dare luogo al diavolo quindi satana non ha nessun potere e non se lo può prendere se non glielo do io ma se io gli do questo spazio che cosa faccio mi espongo alle malattie e il mio corpo può cadere malato posso entrare in depressione perché satana mi attacca nella depressione nell'anima posso ancora avere confusione nella mente perché satana porta confusione noi dobbiamo stare concentrati sintonizzati alla voce di Dio e non essere influenzati da tutte le altre voci che ci circondano perché il peccato è sempre là attorno sempre là che circola ma noi dobbiamo stare lontani da quel luogo chiamato attorno perché è là che opera satana alleluia dobbiamo sempre ricordare che bisogna che guardi la pianta dei nostri piedi perché là è il suo posto ancora ebrei 3 siamo già ebrei 3 quindi ebrei 3 versetto 12 un altro motivo perché noi non dobbiamo peccare e dobbiamo vivere in modo santo verso 12 dice state attenti fratelli che talora non vi sia alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che si allontani dal Dio vivente ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si dica oggi perché nessuno di voi si è indurito per l'inganno del peccato un altro motivo perché dobbiamo vivere in modo santo perché il peccato indurisce il nostro cuore e io non voglio e tu non vuoi indurire il tuo cuore perché perché quando noi induriamo il nostro cuore non è Dio che si allontana non è il nostro padre amorevole che si allontana siamo noi che ci allontaniamo perché siamo in quella condizione e ci sentiamo indegni e il nemico non fa altro che attaccarci con i sensi di colpa con il rimorso e io non voglio indurire il mio cuore noi non dobbiamo permettere che il nostro cuore si indurisca perché perché dal nostro cuore sgorgano le sorgenti della vita dice in proverbi perché io voglio essere sensibile alla voce di Dio ai piani di Dio agli obiettivi di Dio che ha per noi e allora non voglio permettere al peccato di indurire il mio cuore un altro motivo per vivere santamente e non permettere al peccato di indurire il nostro cuore ma di lasciare che le sorgenti della vita che la parola di Dio sgorga da noi dice fiumi d'acqua viva disse Gesù in Giovanni 7 sgorgeranno dal vostro cuore perché per noi anche ma soprattutto per gli altri vi sto annoiando ancora un altro secondo foglio via ebrei 12 dal verso 1 anche noi dunque essendo circondati da un gran numero di testimoni deposto ogni peso e il peccato che ci ha sempre attorno allettandoci corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti come tenendo gli occhi su Gesù autore e compitore della nostra fede il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posta a sedere alla destra del trono di Dio dove non solo ci è seduto lui ma ci siamo seduti anche noi il peccato è un peso un peso nella nostra vita un'aquila non potrebbe mai volare con i pesi una mongolfiera per azzarsi su deve togliere quei pesi noi per andare avanti negli obiettivi nel piano di Dio dobbiamo togliere i pesi pensate un corridore che invece di andare con scarpe da tennis e calzoncini che cosa fa? si mette con gli sci per andare a correre anche noi che non siamo corridori lo supereremmo il peccato non fa altro che mettere pesi pesi nella nostra coscienza pesi nella nostra anima ma invece noi vogliamo essere liberi di questi pesi dobbiamo scrollarceli addosso perché? perché dobbiamo correre con perseveranza la corsa della vita perché dobbiamo andare avanti perché dobbiamo raggiungere sempre di più gli obiettivi di Dio invece il peccato con quei pesi non fa altro che farci rallentare nella nostra corsa nel nostro cammino cristiano e invece di essere in un certo punto siamo ancora indietro ma Dio sempre amorevole dice vieni vieni avanti vieni avanti perché io ho cose meravigliose per te ma invece restiamo fermi non permettiamo questo dobbiamo odiare il peccato come Dio odia il peccato Dio ama il peccatore che ancora non ha conosciuto l'amore di Dio noi sì abbiamo conosciuto il suo amore e siamo amati siamo consapevoli del suo amore ma ancora coloro che non conoscono l'amore di Dio hanno bisogno hanno bisogno e aspettano noi dice che aspettano la manifestazione dei figli di Dio la nostra vita non è solamente qua ma è soprattutto nella società dove devono vedere la nostra differenza dove devono vedere che non cadiamo nei compromessi dove devono vedere che il nostro parlare è diverso dove devono vedere che noi abbiamo qualcosa di diverso noi dobbiamo essere la calamita che li attira Gesù Cristo amén vi vedo così ti dubbanti stasera dici li sto annoiando vi sto annoiando alleluia ultimo motivo diciamo che questi motivi raggruppano quello che è il senso sempre in ebrei 12 alleluia al verso 14 qua in questo verso ebrei 12 14 i religiosi hanno fatto dottrine dice procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore se tu pecchi non vedi il Signore se tu non cammini in santità non vedi il Signore la scrittura non sta dicendo questo dice è arrivato rosario e ci sta vuole insegnare a quelli che ha 50 anni che sono nella fede non è rosario è la rivelazione della parola del Signore dice procacciate la pace che significa procacciare significa cercare con attenzione con insistenza la pace cioè cercare di andare in armonia con tutti per quanto dipende da noi noi dobbiamo stare in pace con tutti poi se si vuole cercare ricordatevi una cosa che sto imparando nella mia vita che è per bisticciarsi bisogna essere in due no se si vuole bisticciare quanto vuole se tu vuoi bisticciare io ti amo e ti benedico perché so che se io benedico ricevo benedizioni ma se io mi metto a contendere non farò altro che cadere nello stesso livello ma noi ricordiamo ci siamo a un livello più alto amen quindi dice cercate con insistenza la pace con tutti e la santificazione con chi? con tutti che significa santificazione? significa essere separati dal peccato ma vicini agli altri oggi invece oggi la religione non ha fatto altro che i tuoi parenti non sono nella fede non andare che poi ti contamani e con quelli non parlare perché non ti contamani e la religione non ha fatto altro che creare degli eremiti con quello no con quello no insomma ma stupendo in cielo con la predagare tutti quelli che si sono in un certo senso separati perché volevano l'ascetismo perché per combattere la carne perché ricordiamoci una cosa la carne è sempre qua dobbiamo sottometterla noi pensando alle cose dello spirito dice abbiamo la parola di Dio sempre in ebrei che è un'arma a doppio taglio una spada a doppio taglio che divide la psiche dallo spirito dice l'anima dallo spirito la psiche nel greco è psiche cioè i nostri pensieri che sono carnali dai pensieri che sono dallo spirito che sono da Dio e come quindi per dividere questo la parola di Dio la parola di Dio la presenza di Dio la parola di Dio che ore sono? le 8 e 30 dice quindi procacciate la pace con tutta la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore il Signore se noi non camminiamo in santità gli altri non vedranno il Signore in noi non noi che non vedremo il Signore perché noi vediamo il Signore a motivo di Gesù Cristo nella nostra vita noi lo vediamo il Signore ma se non camminiamo in santità se non camminiamo come degni di Dio non faremo altro che non far vedere il Signore nella nostra vita agli altri gli altri non vedranno il Signore nella nostra vita non noi non vedremo Dio ci siamo procacciate la pace con tutti e la santificazione con tutti perché se no non vedranno nella nostra vita il Signore perché? perché dice in Corinzi l'ho detto bene stasera stavolta dice in Corinzi Seconda Corinzi ancora non ho finito vorrei finire Seconda Corinzi Seconda Corinzi 3-2 dice voi siete la nostra lettera scritta nei cuori conosciuta e letta da tutti gli uomini siamo importanti la gente ci legge noi siamo una lettera scritta come siamo stati scritti con il sangue di Gesù l'inchiostro di Dio e il sangue di Cristo e ha scritto noi affinché gli altri leggano la nostra vita se non ci distinguiamo dice se una luce posta su un monte sarà visibile cioè se noi ci distinguiamo di livello saremo visibili e faremo vedere Dio nella nostra vita ma se invece viene messa sotto cioè ci conformiamo al sistema di questo mondo come vedranno Dio nella nostra vita vedranno una religione come tutte le altre ancora dice che in prima del Salonicesi non lo prendiamo se no non ci arrivo è la nostra è la volontà di Dio la nostra santificazione e ancora in prima Corinti 1.30 Cristo Gesù è la nostra santificazione è la nostra redenzione Cristo Gesù è tutto per noi Cristo Gesù è la nostra pace Cristo Gesù è la nostra vita Cristo Gesù è la nostra salute Cristo Gesù è tutto per noi e in noi abbiamo tutto in noi la parola in è importantissima adesso e ancora in atti degli apostoli vi ricordate quando Gesù disse non vi muovete da qua perché quando la potenza dello Spirito Santo scenderà voi mi sarete testimoni non amaffare la testimonianza siamo noi la testimonianza noi siamo noi la testimonianza siamo noi dei testimoni viventi della vita che adesso vive dentro di noi e noi non abbiamo una vita qualunque abbiamo la Zoe Zoe significa vita di Dio vita la qualità di Dio la qualità di vita di Dio significa un bel nome Zoe per per chi è una nascitura vero? dici come ti chiami? Zoe vita bellissimo prima volevo concludere con altri due versetti me li permettete? dice in Tito 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 stasera abbiamo fatto lo studio biblico Tito dice che è l'insegnamento che cambia la nostra vita perché è la parola di Dio che incide dentro di noi amén io sono stato e sto cambiando attraverso la parola del Signore ho tante cose ancora da cambiare nella mia vita e fin quando arriverà il Signore ci rapirà come si suol dire per far capire grazie a Dio ci dà il pane fresco il Signore dice capitolo 2 verso 11 infatti per quelli che per i religiosi per la religiosità che dice che la grazia dice fate quello che volete assolutamente siamo noi che veramente viviamo la santità dice infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna ci ammaestra a peccare c'è scritto così? c'è scritto così? c'è scritto a rinunziare alle impietà che significa rinunciare? rigettare rifiutare quindi non c'è scritto che la grazia ci dà il permesso di peccare dice che la grazia ci insegna a rinunciare alle impietà e alle mondane concubiscenze perché viviamo nella presente età cioè oggi continuativo ogni gnonno come? saggiamente giustamente e piamente io mi sono guardato nel vocabolario di lingua italiana che cosa fossero perché certe cose magari non imparo pure io e dice saggiamente significa temperatamente signore significa temperatamente anche il vocabolario pure il Treccani che è la più grande encecropedia temperatamente significa temperatamente io ho fatto la ricerca significato biblico di saggiamente e temperatamente e me ne sciù in modo equilibrato è così semplice un angelo come dobbiamo vivere in modo equilibrato nel testo originale significa con una mente sana una mente equilibrata senza eccessi senza chissà che cosa equilibrio che significa equilibrio? che come sono qua? sono là non c'è la porta santa vi ricordate vero? non è che appena attraversiamo la porta santa ci trasformiamo che se non sarebbe una cosa che non è non è biblica va? poi dice giustamente signore giustamente io sono giusto tu sei giusto perché davanti a Dio siamo giusti amè? però dobbiamo vivere giustamente come? in modo corretto nei confronti degli altri io ancora sto imparando ancora ogni tanto mi arrabbio con quelli quando cammino con le macchine soprattutto le lumache il bello è grazie a Dio che non mi funziona neanche il clacson quindi figuriamoci e poi c'è anche lo spirito santo che usa mia moglie ricordati chi sei hai ragione quindi giustamente trattando il prossimo con equità e amore giustamente ma chi è vissuto giustamente in modo perfetto? Gesù Cristo il Signore ma sai sapete Dio non vuole che noi dobbiamo vivere una vita perfetta perché la perfezione è noi lui ha vissuto una vita perfetta per noi noi dobbiamo solo seguire le sue orme vi ricordate quando abbiamo letto quel passo nel Sammo 65 tu circondi il nostro anno con la tua munificenza e sappiamo che cosa significa munificenza benedizione abbondanza ci arricchisce in ogni cosa e le tue orme traboccano di abbondanza di beni le sue orme sono anche le nostre orme chi è il corpo di Cristo siamo noi siamo noi che camminiamo lui è il capo ma noi siamo il corpo e l'abbondanza di beni non significa perché la nostra mente dove va sempre i soldi purtroppo è là non è solamente quello anche quello ma sono tutte le altre cose abbondanza in ogni cosa noi dobbiamo abbondare abbondare nell'amore abbondare nella gentilezza che sono sti parole oggi nel mondo gentilezza ma fai scherzi chi è sta a cancellare ora se guardate il vocabolario di lingua italiana ci sono i termini informatici una volta non esistevano ora ci sono i termini informatici connessione wireless wifi ora abbiamo Gesù Micina questo l'ho coniato io ti vuoi prendere l'aspirina no no chiedi Gesù Micina bello ora faccio un brevetto così a meno portiamo soldi al regno di Dio ameno e poi un'altra cosa in cui come dice la scrittura in modo piamente significa piamente dice con devozione nei confronti del Signore con un'attitudine interiore sincera amorevole e disposta all'adorazione e all'ubbidienza quindi saggiamente quindi in modo equilibrato giustamente nei confronti del prossimo piamente nei confronti del Signore in questa triplice azione noi dobbiamo vivere e la grazia di Dio ci insegna ci ammaestra in questo voglio concludere veramente veramente voglio concludere Romani 3 24 questo mi è piaciuto e lo voglio condividere con voi Romani 3 24 e chiudiamo dice ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù gratuitamente gratuitamente significa senza condizioni senza limiti e nel testo originale è detto Dorian in greco quindi senza limiti senza condizioni ma non solo dice siamo senza limiti senza condizioni giustificati gratuitamente giustificati è un verbo presente continuativo quando cadiamo quando sbagliamo ricordati che là nella scrittura c'è scritto essendo giustificati continuamente non ci sarà un solo attimo nella nostra vita in cui noi ci dobbiamo sentire ingiusti indegni anche quando il nemico viene e ti attacca nella mente e ti dice ma vuoi disti che facci adesso hai visto quello che hai pensato hai visto quello che hai detto mi devi dire ho sbagliato ho sbagliato perché nel corpo e nell'anima ancora abbiamo bisogno di rigenerazione ho sbagliato ma il sangue di Gesù mi lava e mi purifica continuamente come dice in Giovanni 1.9 e mi perdona ho un avvocato presso il padre che continuamente mi perdona quindi essendo giustificati continuamente meraviglioso e concludo alleluia il motivo per cui dobbiamo vivere santamente è perché dobbiamo onorare il nostro Dio noi siamo figli e i figli portano onore al padre amén Dio ci ama andiamo nella benedizione del Signore e grazie di avermi ascoltato ciao ciao Grazie per la visione!